Buongiorno a tutti voi, ci troviamo al seminario numero 2 relativo a quello che è l'argomento sulla luce e sui colori. Questo seminario è un seminario più di precisazioni, riascoltando, osservando il seminario precedente mi sono accorto che c'è qualche piccola confusione che io ovviamente ho corretto con le vidascalie, ma per essere più precisi e poiché l'aspetto riguarda conoscenze fondamentali, noi per penetrare in questo problema nuovo della luce e dei colori è meglio che precisiamo bene gli aspetti che stiamo dicendo. C'è una slide che ho mostrato verso la fine del seminario scorso, ma è una slide che tra l'altro io utilizzo spesso in diverse altre attività comunicative di tipo scientifico, che è l'analisi dello spettro elettromagnetico. Questa immagine, che ve la voglio mostrare in un'altra forma un po' più minimale, nel senso che ci sono le informazioni salienti, mostra che tutto il campo delle onde elettromagnetiche si estende dalle onde radio e i raggi gamma. Quando noi ci troviamo a che fare con onde di tipo radio, quindi ascoltiamo la radio o la televisione, le onde che raggiungono la nostra abitazione, il nostro dispositivo, sono onde elettromagnetiche che sono molto simili a quelle della luce. Le microonde, utilizzate in minima parte per i cellulari, ma oggi questo impiego sarà sempre più diffuso, o in altre apparecchiature di sicurezza, militari, comunicazioni particolari, o il forno a microonde, riguarda sempre lo stesso problema. Sono sempre onde elettromagnetiche, come le onde radio, ma hanno una frequenza superiore. Gli infrarossi, che sono delle radiazioni termiche, di cui alcuni animali, ma anche noi stessi, abbiamo una certa sensibilità, alcuni rettili ne hanno in particolare una maggiore, una sensibilità maggiore, sono ancora onde elettromagnetiche. Però poi a un certo punto c'è una finestra, che in questi grafici è sempre illustrata con una, diciamo, un certo gruppo di colori. Questa finestra rappresenta quello che noi chiamiamo luce, quindi sono sempre onde elettromagnetiche, ma per la particolare caratteristica a che i nostri occhi vedono queste onde elettromagnetiche, perché quelle precedenti non venivano viste, noi chiamiamo questa zona dello spettro la zona luminosa, cioè la luce. Successivamente ci sono radiazioni sempre invisibili all'occhio umano, che sono le radiazioni ultraviolette, poi ci sono i raggi X che vengono utilizzati per la radiodiagnostica negli ospedali, che voi conoscete molto bene, che sono onde elettromagnetiche a frequenza ancora più elevata. Infine ci sono i raggi gamma, la cui frequenza è elevatissima. Tutta quest'altra gamma superiore è una gamma di onde elettromagnetiche che hanno semplicemente la caratteristica di avere questa frequenza più elevata ed ecco perché il nostro occhio non le percepisce. Quindi il nostro occhio percepisce soltanto una ristretta zona di questa gamma. Il mio intento è sempre rivolgermi ad ognuno di noi, cercando di coprire ecco anch'io una banda larga, la battuta, per permettere a chiunque di voi che mi sta ascoltando di poter capire l'argomento. Quindi permettetemi di soffermarmi adesso su questo problema per cercare di precisarlo con una certa approfondità, un certo dettaglio, chiedo scusa dei termini, ma soprattutto cercando di chiarire il problema lunghezza d'onda frequenza. Infatti voi vi siete accorti che questi grafici hanno due numerazioni progressive. Una numerazione, quella superiore, che è la frequenza appunto dell'onda elettromagnetica a cui io vi sto richiamando la vostra attenzione da quando abbiamo iniziato a parlare. Ma sotto c'è un grafico, una struttura, una linea numerica inversamente proporzionale alla frequenza che viene chiamata lunghezza d'onda. Questo significa che lo spettro delle onde elettromagnetiche io lo posso definire sia se mi esprimo come frequenza ma anche se mi esprimo come lunghezza d'onda. Ecco, questo può originare delle confusioni, quindi è opportuno che chiariamo questo punto. Un'onda elettromagnetica, abbiamo già detto, che è un campo elettrico e un campo magnetico che si propagano nello spazio. Ci sono dei seminari specifici che ho già fatto e sono già disponibili su questo canale all'interno dei quali queste informazioni potete raccoglierle con maggiore approfondimento anche se si riferiscono a contesti di propagazione radio. E questa è una GIF che ho anche avuto modo di mostrarla più volte presa dalla rete all'interno della quale si vede proprio la dinamica di questa variazione del campo B magnetico e del campo elettrico che è appunto la propagazione dell'onda elettromagnetica. Ma quindi ecco perché c'è una frequenza di ripetizione del fenomeno, ma c'è anche una lunghezza d'onda. Questa immagine lo mostra bene. Ecco, c'è una sinusoide in cui io sto facendo crescere la frequenza progressivamente. Ecco, arriva a 5 Hz. Vedete, 1 Hz, 1 e 7, 1 e 8, 2, adesso arriva a 3, fino ad arrivare a 5 Hz. Però se vedete, mentre aumenta la frequenza, cioè la frequenza caratterizza il fenomeno che si ripete nel tempo, se voi vedete la lunghezza fisica, proprio a delle creste dell'onda, si riduce. Quindi significa che la lunghezza d'onda è un aspetto inversamente proporzionale alla frequenza, perché se la frequenza è elevata è chiaro che la lunghezza d'onda è piccola. Ecco perché questi grafici, quello che abbiamo visto prima, ma anche questo che è un po' più completo, mostra tutte e due le informazioni. Mostra l'informazione della lunghezza d'onda è quella della frequenza. Di conseguenza, facciamo un esempio, la frequenza dell'onda elettromagnetica più bassa che qui è illustrata, ecco, 30 kHz, è una gamma di LV, diciamo, veramente che fa parte delle VLF, cioè delle Very Low Frequence, questa gamma di frequenza, 30 kHz, corrisponde a una lunghezza di 10 km, cioè 10 km di lunghezza d'onda per un'onda elettromagnetica con questa frequenza bassissima. Ma già se arriviamo a 30 kHz, ma che di cui abbiamo una lettura diretta, sono 100 metri. Oppure se continuiamo a salire, andando dall'estremità opposta dello spettro, quindi frequenze di 300 kHz, che sarebbe 10 alla diciottesima Hz, noi abbiamo una lunghezza d'onda di 0,001 nanometro. Cioè, significa che abbiamo a che fare con onde che lavorano a, diciamo, sono millimetriche, quindi frazioni di millimetro, queste onde a 300 kHz. Ecco perché c'è questo aspetto, diciamo, della lunghezza d'onda e della frequenza. Tornando alla frequenza, e quindi precisando quello che io la volta scorsa ho detto, e tornando quindi di nuovo a questo grafico, possiamo utilizzare anche questo eventualmente, o anzi, aspettate, ho una, ecco qua, ho dello stesso grafico, ecco, vi mostro quello che può essere considerato lo spettro visivo. Cioè, ripeto quello che ho detto poc'anzi all'inizio di questo seminario. Cioè, questo intervallo che noi rappresentiamo in questo modo è una banda di frequenze della gamma delle onde elettromagnetiche in cui il nostro occhio riesce a percepire le informazioni. Se voi leggete con attenzione, ma mi ascoltate pure attentamente, perché io ripeto quello che ho detto l'altra volta, chiarendolo meglio, cercando di non fare errori di dislessia. Bene, arrivati, questa gamma comincia dalla frequenza di 430 mila miliardi di oscillazioni al secondo. Cioè, quando, oserei dire, un elettrone comincia a oscillare, appena raggiunge i 430 mila miliardi di oscillazioni al secondo, o 430 mila gigahertz, è la stessa cosa. Oppure 0,43 petahertz, come avete visto nel grafico, adesso lo rimettiamo, che è la stessa cosa, a quel punto l'elettrone comincia ad essere visibile. Nel senso che comincia a produrre una radiazione a cui i nostri occhi, mettiamoci, riguardiamo l'immagine, a cui i nostri occhi, diciamo, sono sensibili. E questa radiazione è il colore rosso che noi conosciamo da quando siamo nati, da quando abbiamo cominciato a fare le nostre prime esperienze di visione. È il colore rosso. Che cosa succede successivamente? Se la frequenza continua a incrementarsi, allora raggiungiamo il margine estremo dello spettro visibile, che è 750 mila miliardi di oscillazioni al secondo. Nel documentario precedente ho detto 720, ma è più o meno, stiamo là, perché ci sono, diciamo, esseri viventi che hanno variazioni sulla percezione degli estremi di banda. Quindi 720, 750 mila oscillazioni, miliardi di, scusatemi, di oscillazioni al secondo, che equivalgono a 0,75 petahertz, come vi mostro il grafico, stiamo parlando di radiazione di colore violetto. Tutte quelle intermedie fanno parte dello spettro dei colori. Sempre per questa ragione, ecco, qualche volta, durante il prosieguo di queste nostre attività comunicative, potreste trovarmi a discutere con voi di lunghezze d'onda. Ma è la stessa cosa, perché è ovvio che 430 mila miliardi di oscillazioni al secondo, che equivalgono alla radiazione rossa, questa, se voi fate i conti, questa radiazione elettromagnetica corrisponde a circa 700 nanometri. Mentre, viceversa, se noi andiamo a 750 mila miliardi di oscillazioni al secondo, cioè la frequenza caratteristica delle radiazioni blu-violace, l'estremo apposto dello spettro ottico, lì corrispondiamo a circa 400 nanometri. Ecco perché durante, diciamo, le conversazioni che noi faremo, noi possiamo adoperare sia la lunghezza d'onda e la frequenza. Qualcuno sta già pensando, ha detto che corrispondono, e come fanno a corrispondere? C'è una formula semplicissima in cui la velocità della radiazione elettromagnetica è sempre uguale al prodotto della lunghezza d'onda per la frequenza. Ecco perché sono inversamente proporzionali. Quindi se voi volete conoscere una delle due, basta sapere le altre due. Quindi se io conosco, se io so che la velocità della luce è una costante nel vuoto, che è 299.792.458 chilometri al secondo, se io divido per la lunghezza d'onda ho la frequenza. Se io la divido per la frequenza ho la lunghezza d'onda. E se fate i calcoli, quei valori che io vi sto dicendo vi corrispondono perfettamente. Tant'è vero che i radiomotori per esempio conoscono molto bene la gamma di frequenze chiamata 40 metri. Ecco, si riferisce alla lunghezza d'onda dell'onda elettromagnetica utilizzata per le trasmissioni radiofoniche. Ma la lunghezza d'onda dei 40 metri corrisponde a una frequenza di circa 7 MHz. 7 milioni di oscillazioni al secondo. Quindi il discorso lunghezza d'onda e frequenza vanno sposate esattamente in questa dimensione. Credo di avervi mostrato tutto e quindi ecco spiegato perché tutti i colori che noi percepiamo attraverso la nostra esperienza visiva sono semplicemente frequenze elettromagnetiche entrono nel nostro occhio. Ma noi questo lo chiariremo, ci ritorneremo e chiariremo meglio questo aspetto anche perché non è così semplice. È abbastanza complicato poi l'argomento colori e quindi come reagiscono le sostanze attorno a noi. Il mondo fisico come reagisce alla luce che lo investe. Quindi tutto questo lo vedremo poi nei nostri prossimi appuntamenti. Bene, prima di concludere questa pillola di comunicazione che è stata una pillola di precisazione voglio aggiungere qualcosa di sorprendente per fare qualche riflessione anche un po' esoterica. Entriamo adesso in quello che è il mondo antico degli egizi. Sto parlando dei geroglifici egiziani. Bene, forse non tutti sanno che la parola luce, che equivale in questo caso anche a dorso, si scrive più o meno utilizzando questi simboli geroglifici. È evidente, prima che qualche super esperto di voi possa pensarlo, è naturale che come in qualsiasi lingua ogni parola può essere definita con caratteri diversi, cioè ci sono tante parole che definiscono lo stesso concetto e anche luce può essere detto in diversi modi diversi utilizzando gli geroglifici egiziani. Un modo però interessante e caratteristico per definire luce è questa simbologia che voi state osservando. Si tratta di un suono che più o meno è psei nella trasliterazione e se vedete c'è una struttura quadrata, una struttura curva e un serpente. Dall'analisi esoterica di questi termini egizi ci sono dei libri scritti, io ne ho scritto qualcuno, molte conferenze sono state fatte, è un fatto di saputo ovviamente questo, anche se il merito di questa interpretazione va ad persone di altissimo livello e di altissima conoscenza, in questo caso vorrei citare Angelo Angelini che ho già citato più volte ed è stato purtroppo una delle figure prominenti, uno studioso, un chimico alchimista e soprattutto uno studioso dell'antico Egitto che ha lasciato a noi anche delle informazioni interessanti e forse uniche su questo straordinario mondo. Ebbene, torniamo alla simbologia. Secondo questo egittologo, tra l'altro Angelo Angelini, l'interpretazione esoterica di questi simboli sarebbe in questo modo definibile. Ecco, il primo simbolo si chiama la pietra tagliata ed ha una rappresentazione esoterica nell'antico Egitto come materia, il cui suono, come ho detto prima, è P, P come Palermo. Il secondo simbolo è la benda di lino piegata e il suono è S, S come Savona e questo simbolo è associato a un concetto di unione. Mentre il simbolo finale, che è il cobra, dal suono molto difficile da pronunciare, alcuni la pronunciano in modo leggermente diverso, è il simbolo che identifica il magnetismo indifferenziato, cioè, scusatemi, differenziato. Questi tre simboli, quindi, guardandoli insieme, sarebbe magnetismo, ecco, partendo dall'ultimo, unito, unito alla materia. Quindi il concetto di luce che avevano gli antichi egizi era qualcosa di, qualcosa che riguardava il magnetismo che era legato alla materia. Quello che praticamente è stato scoperto oggi con le leggi di Maccos e con tutte le conoscenze che noi abbiamo sull'elettromagnetismo. È evidente che alcuni potrebbero farvi notare che il magnetismo inteso negli antichi Egitti era un magnetismo un po' spirituale. E qui io vi dovrei, diciamo, invogliare ad approfondire quali sono i temi di unione fra i concetti. Non possiamo a questo punto dire tante cose, ma non c'è in molta differenza. Ma voglio lasciare a voi, diciamo, l'ipotesi, questa provocazione, ecco, chiamiamola così, che io vi ho voluto, diciamo, qui presentare, per capire quanto ci sia di irrazionale e quanto ci sia di misterico in questa interpretazione che, ahimè, non è la sola, ma tantissime, diciamo, interpretazioni antiche degli geroglifici, possono essere ricondotte a situazioni paradossali e affascinanti. Con questo terminiamo qui questa seconda puntata del seminario sulla luce e sui colori, augurandomi di non avervi, diciamo, sorpreso in maniera eccessiva e non vedervi al nostro prossimo appuntamento. Vi auguro una felice giornata a tutti quanti voi. Grazie.